Siamo a Gamberale, nel territorio comunale di Gamberale che funge un po' da territorio di confine con la regione Molise ma anche tra la provincia di Chieti e quella dell'Aquila. Il territorio proprio di Gamberale stazione in questo caso funge anche da base logistica per il cantiere che è stato definito in questo momento il più grande ma anche il più costoso d'Abruzzo che porterà nei prossimi due anni ad ultimare i lavori della Fondovalle Sangro per la strada statale 652. Un'opera che era attesa praticamente da quasi 50 anni e che è stata ereditata dalla nuova giunta Marsilio lasciata in eredità dall'ex giunta D'Alfonso. Questa mattina siamo venuti proprio a Gamberale dove il sindaco di questo comune Maurizio Bucci ha convocato una riunione con i sindaci del comprensorio ma anche i rappresentanti degli enti in primis le due province quella dell'Aquila e quella di Chieti e naturalmente vertice della regione ma anche l'ANAS che è committente di quest'opera che costerà in tutto 190,4 milioni di euro. Questa è un'opera importantissima dicevamo non soltanto perché raccorderà le due regioni Abruzzo e Molise, le due province l'Aquila e Chieti ma soprattutto raccorderà il Tirreno e l'Adriatico ed era dunque un'opera molto importante richiesta anche a gran voce dal comparto dell'automotive nei mesi scorsi che chiedevano la cantierizzazione urgente delle opere, delle infrastrutture viarie per cercare di snellire proprio i trasporti di questo settore molto importante che è il comparto dell'automotive. Insomma un'opera attesissima ma sentiamo questa mattina quello che ha dichiarato proprio il governatore Marsilio al nostro microfono dopo aver ascoltato anche tutti i rappresentanti degli enti coinvolti in questo progetto. C'è una richiesta di una soluzione temporanea che da mettere in carico ad ANAS queste strade in modo che possano essere manutenute, rafforzate, migliorate in modo che da qui a due anni quando sarà chiuso il cantiere che finalmente stapperà tutta questa zona le consentirà di avere una viabilità importante sicuramente sarà un volano per la crescita e lo sviluppo di questo territorio molto decisivo. La sfida delle infrastrutture la considero la principale che deve affrontare l'Abruzzo perché siamo rimasti per decenni troppo fermi e questo ha portato a uno svantaggio competitivo per le imprese che sono localizzate sul territorio. Chiaro che la strada, la Fondo Valle Sangro fa parte di questo quadro ma insieme a questo quadro noi dobbiamo parlare anche di ferrovia, di porti che devono servire a potenziare le capacità commerciali del nostro territorio, a mettere in condizione le imprese grandi o piccole che siano che hanno investito qui o che vogliono investire di potersi insediare, di poter continuare a lavorare con prezzi competitivi rispetto alla loro concorrenza. Grazie. 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 Grazie.